Taglio del nastro a terra futura per la seconda edizione di World's World Web. Maria Teresa Ruggero, direttore Fondazione Culturale e Responsabilità Etica e Paolo Chiappini, direttore di Fondazione Sistema Toscana, hanno inaugurato la tre giorni di World's World Web, parole pianeta rete. Tanti gli ospiti che arriveranno a Firenze, da tutta Italia e anche dall'estero, per portare a World's World Web la loro esperienza nel campo della sostenibilità e delle buone pratiche. Il filo conduttore sarà il tema della rete come bene comune. Mi accorgo che ai mezzi tradizionali di stampa molte notizie non le fanno passare, quindi credo che sia una possibilità di avere informazioni in più e credo che sia effettivamente un bene comune e il digital divide sia veramente un problema serio perché alcune persone vengono lasciate volutamente o meno fuori da alcune notizie, alcune informazioni e alcuni contatti. Nel convegno di apertura ha partecipato anche Luca Conti, per il secondo anno direttore scientifico di World's World Web. Quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta. A me in particolare piace sottolineare un momento di approfondimento su internet, il territorio e il cambiamento, in cui ci sarà uno dei responsabili italiani di Transition Network, che è un network internazionale che vede più di 300 città collegate, che vuole promuovere un cambiamento verso la sostenibilità. La prima giornata di World's World Web ha visto anche la presentazione della nuova versione di Zoys.it, il primo social network interamente progettato in Italia e dedicato alle condivisioni di buone pratiche e opportunità di lavoro nel settore della sostenibilità. Un aspetto molto più curato rispetto all'immagine e l'identità visiva, maggiore attenzione all'usabilità, alcune funzionalità nuove, ma anche un'organizzazione migliore e un riuso di quelle già esistenti. Da Germoglio è diventato un arbusto, un arbusto che buca il logo per dare proprio il senso anche di apertura degli orizzonti che con questa nuova versione vogliamo facilitare. Tanti gli appuntamenti a World's World Web. Segnaliamo l'incontro su informazione, diritti e trasparenza, in programma sabato ore 11, al quale parteciperanno giornalisti e blogger nazionali moderati dal direttore di Intoscana.it Davide De Crescenzo. Da non perdere anche l'approfondimento con ospiti internazionali su beni comuni digitali di domenica ore 10 e l'originalissimo granaio di domenica ore 13. Il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Paolo Chiappini, ha lanciato oggi la proposta di esportare il format vincente di World's World Web anche ad altre manifestazioni. Sentiamo la risposta di Andrea Tracanzan di Banca Etica. La proposta è assolutamente da sposare. Già abbiamo in cantiere alcune possibilità per le quali però non vi do delle anticipazioni per scaramanzia e soprattutto uno degli elementi che già in qualche modo è partito è quello di far sì che per la rete dei 35.000 soci di Banca Etica questo tipo di formato non resti solamente una volta all'anno ma venga adottato anche da loro nei loro eventi territoriali.